Il logo dei Chupa Chups fu disegnato da Salvador Dalì. Il Chupa Chups nacque in Spagna nel 1958 grazie all'imprenditore Eric Bernard. Il prodotto cominciò ad avere un ottimo successo e Bernard, evidentemente non ancora soddisfatto, sentì il bisogno di dare un'immagine accattivante al brand, in modo da avere un ritorno economico più sostanzioso. Bernard aveva già portato alcune modifiche al logo, che però non avevano dato una vera identità al brand. Così approfittò dell'amicizia con Salvador Dalì, uno dei più grandi geni artistici del Novecento, per avviare un restyling del logo. Dalì, in occasione di un pranzo di lavoro tra i due, nel giro di un'ora e su un foglio di giornale, realizzo la famosa margherita gialla dai contorni rossi. Grazie a Dalì il prodotto venne trasformato definitivamente in un brand. Ti consiglio di seguire Business Lab.